Ciao, sono Silvia, fattinare è sempre stato il mio passatempo preferito fin da quando ero bambina. Il corso di Happy Roller è un modo per trasmettere la mia passione, quella di Federico, ai bambini che vogliono trovare la sensazione di avere delle ruote sui piedi. Durante le lezioni si lavora sulla tecnica del pattinaggio e ci si mette in gioco con esercizi di equilibrio, salti e velocità. È una disciplina che necessita di grande concentrazione ma allo stesso tempo è estremamente divertente. Il corso di Happy Roller è un corso adatto a tutti, sia a chi sta muovendo i primi passi e sia a chi sa già pattinare bene. Il significato che ho dato a questo tipo di pattinaggio e che vorrei trasmettere è che cadere è importante perché ci permette di rialzarci sempre più forti e con il sorriso sulle labbra. Il corso per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni si tiene il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 all'impianto sportivo Bus Record, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18 all'impianto sportivo Porticelli. Vi aspetto per una prova. Alla prossima puntata con il Club Sport for Kids con Happy Volley.